Giussi Cossa, Presidente regionale di AIC Sicilia, Associazione Italiana Celiachia. Oggi è un appuntamento importante all'interno del Salone del Buon Cibo e del Buon Vino perché si presenta un ricettario dedicato alla celiachia, cioè alla cucina senza glutine. Sì, oggi all'interno di questo grande appuntamento presentiamo un'importante iniziativa di sensibilizzazione verso il mondo della celiachia, perché il celiaco può vivere una vita tranquilla, serena, normale se accede a dei pasti senza glutine anche di altissima qualità. Nel ricettario infatti troveremo delle ricette stellate di Ciccio Sultano e di Sebisorbello. E ricordiamo che all'interno del Salone ci sono tanti altri appuntamenti dedicati al mondo della celiachia e all'associazione. Sì, anche degli appuntamenti diremmo no food dell'area medica, domani abbiamo il convegno regionale, sarà presente il professore Magazzù e anche il professore Valitutti, il ragazzo celiaco che si è impegnato nella traversata dello stretto il 5 settembre.